13 gennaio 2010 Lucrezia mangia sola e gli altri guarda e tu ti sporchi ogni tanto e sei una zozzona dai su 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 vieni qui mangia mangia fai vedere a tutti come mangi bene dai amm amm ferma un po' com'è papà? com'è papà? oh com'è papà? non lo dici? è buono papà e il riso com'è? è buono riso? è buono riso? è buono riso? la chiamiamo mamma? la chiamiamo mamma? non la voglio chiamare ciao 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 Grazie.